rifallo rifallo azione indovina chi uno azione agli occhi scuri si castagna è chiaro ma no castagna è chiaro la maglietta bianca no ma perchè ti sei alzato ho chiesto consiglio alla scuola ma dopo ci insuriamo la maglietta vai anche te perchè si alzato Fabio fai vedere se sono nato così esisteremo si ma non sai cos'è è una frase di una canzone di un suo rapper dopo viene tagliallato hai i pantaloni sopra il ginocchio e non vai ad alzare rispondete si o no? si su tutti gli altri giuuu un po' di sede sapore giuuu e li ha giuuu e li ha giuuu e li ha giuuu e li ha giuuu ma no la Samori ce l'ha sotto il ginocchio tagliano il ginocchio a metà Samori giuuu Samori giuuu ma no Samori è sopra il ginocchio e no sopra il ginocchio ma perchè ti alzi siediti siediti Camilla giuuu e no e no e se non ce li ha reati vai giuuu rissa fra sorelle e anche no te ce l'ho sotto il ginocchio ma io mi trovo quelli di scala me sono no lui è sempre lui si ragazzi è a me carino e sentiti sul momento va bene così vabbè e se qui la chi sei? chi è che è rimasto? un po' che troia bravo ragazzi si si c'è una domanda fantastica perché prima ma è che non possono dire beh perché non possono dire maschi o femmine se no le dico maschi si no qualcosa che no 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 c'è no 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 A lato, il personaggio, ai cappelli, rasati o semi-rasati? Lato, 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 molto corti, a lato naturalmente. Molto corti intendiamo di corti, ragioni e scaldi. Eh, in quel senso. È zio o no? No, molto corti nel senso di macchinette. Lari scoppia è zio o no? No, non è di macchinette. Sono molto corte macchinette, sì. Ma non ce ne ha volte. Anche ammirabile ce ne ha corti. Sì, ma non è di macchinette. Giù, giù, giù. Giù, giù. Ma lui è già cuore. No, è macchinette. Ah, sta, ci sono rimasti? Sì. Ci sono rimasti tre. Sì. Sì. E qua chi è rimasto? Chi è che si è rimasto qua? Chi è? Sì. Sì. Non è un'intervista per far vedere che ci sei Sulla maglietta ho un disegno? Sì 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 Che casino Sì 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 Sì